E' stata ritrovata in una casa di campagna nella zona di Giarre la diciassettenne Denise, la cui scomparsa, era stata denunciata dalla madre ai carabinieri di Taormina. La ragazza era uscita di casa il 2 maggio scorso con il suo cagnolino facendo perdere le sue tracce. Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Taormina e dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia insieme alle altre forze di polizia, ai vigili del fuoco e ai volontari e alle associazioni di protezione civile. Le ricerche hanno consentito di individuare la posizione della diciassettenne rintracciata, come detto, in una casa di campagna nella zona di Giarre. Denise si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione di Trappitello, frazione di Taormina, ed è stata trovata in buone condizioni di salute.